Musica Metti una sera a cena con burrata, lupini, fiori di zucca ripieni e focaccia barese non sotto il sole della Puglia ma a Beverly Hills o meglio a Century City, a due passi dall'esclusivo quartiere di Los Angeles nel mozzarella bar o BK, dove l'Italia è di casa e dove una volta al mese si parla delle regioni tricolori Abbiamo cominciato in modo non organico dal nord est, poi siamo andati al sud, alla campagna poi torniamo alla Lombardia, alla Puglia La prima regional dinner abbiamo avuto 30 persone di cui 5 non italiani adesso abbiamo il 90% di non italiani Giugno è il mese della Puglia con tutti i prodotti tipici classici e una scelta di vini da fare in vidi alle cantine salentine Una serata basata tutta quanta completamente sul pesce con abbinamento i grandi rosati del Salento, che non dimentichiamo sono i migliori rosati al mondo sono i migliori d'Italia sicuramente e vini bianchi bene o male della zona, tutta la regione pugliese A conferma di quanto all'agroalimentare sia uno dei migliori biglietti da visita per l'Italia a tavola c'è anche il console italiano a Los Angeles che ci tiene a ribadire come sia importante far conoscere il nostro paese anche nelle sue diversità regionali Il fatto che la Puglia sia uno dei principali produttori di vino e più riconosciuti anche qui a Los Angeles è un ulteriore asso nella manica di questa serata quindi giustamente come ha detto lei non solamente cibo pugliese ma anche vino pugliese grazie grazie